Vuoi sapere come si fa un corretto budget familiare o personale? Bene, te lo spiego in due minuti. Da un'indagine fatta sulle famiglie italiane è emerso che solamente il 5% delle famiglie fa il budget. Che cos'è il budget? In pratica devi semplicemente elencare tutte le entrate e tutte le uscite che hai avuto durante il mese per quanto riguarda il passato. Ma particolarmente importante è la pianificazione futura, quindi già delineare quelle che pensi che saranno le entrate e le uscite che avrai in futuro. Quindi devi dedicare un'ora al mese per andare a vedere le spese che hai sostenuto e se sono state più alte o più basse di quelle passate e di quelle che avevi programmato. In questo senso ti posso consigliare di andare su internet e semplicemente su Google cliccare e andare a cercare un software gratuito per la gestione del budget familiare. Ce ne sono di tanti tipi, puoi farlo anche da solo in Excel. Così facendo è più facile risparmiare e soprattutto è più facile raggiungere quegli obiettivi che ti sei posto nella tua pianificazione finanziaria e soddisfare i tuoi bisogni personali e anche di chi ti sta a cuore. Devi considerarti come un'azienda che crea reddito e quindi come un'azienda devi sostenere sotto controllo i costi e i ricavi altrimenti rischi il fallimento.